Un caro saluto a tutti e un ringraziamento per questa presenza così numerosa, un ringraziamento all'Unione della Lombardia per questa giornata partecipata, discussa, con molti argomenti portati nel dibattito e anche un ringraziamento a Petteni per la sua relazione che ha fatto qui oggi pomeriggio, che ha svolto anche stamattina a Milano, perché ha davvero dato un segnale credo anche all'insieme dell'organizzazione di come va vissuta una fase, questa fase che abbiamo di fronte che è una fase difficile, sono tempi davvero complicati, sono tempi che presentano dei conti pesanti alle condizioni di lavoro, alle condizioni di vita innanzitutto di lavoratori, di pensionati, di famiglie e quindi sono tempi nei quali è necessario più che in altre occasioni cercare di individuare percorsi, di individuare prospettive, di farsi in qualche modo comprendere e di comprendere il momento, quello che sta succedendo per per poter organizzare meglio la capacità del sindacato di stare dentro questi processi tutelando come suo compito, come sua funzione storica le persone nel lavoro, le persone nella società. Io vi porterò un contributo a questa riflessione che sia legato al quadro più generale, farò qualche riflessione con voi su quello che abbiamo di fronte e in particolare, come dicevate, approfondiremo questo aspetto della riforma del lavoro che è in questo momento quello più di attualità, ma non è l'unico e come sappiamo a partire dagli esodati ma anche sui temi poi del fisco, sui temi della crescita, sui temi dei redditi dovremo andare avanti. Quindi l'intento che abbiamo è quello di affrontare tempi difficili con proposte chiare, con capacità di orientamento e di tenuta anche sociale dentro i luoghi di lavoro e nei territori. La riflessione sui temi generali è presto fatta. Io credo che, l'ha detto bene già a Petteni, ci torno anch'io per un attimo, dobbiamo insieme costruirci via via una consapevolezza del fatto che nonostante quello che noi possiamo pensare, nonostante quello che noi vorremmo pensare, vorremmo tutti in fondo pensare che questa brutta situazione, questa crisi che ci attanaglia ormai da quattro anni possa finire rapidamente e possa rapidamente ricostruirsi un quadro simile a quello precedente. Dicevo tutti forse in fondo pensiamo questo e vorremmo che succedesse questo, ma credo già sappiamo tutti, ce ne stiamo già accorgendo ormai in maniera consistente che non sarà così, che questa non è una crisi come le altre abbiamo conosciuto, questa è una crisi che è iniziata come le altre, è iniziata, ce lo ricordiamo, da una grande crisi finanziaria localizzata in un paese, gli Stati Uniti, da cui però come una sorta di gigantesco incendio è divampata velocemente, è diventata crisi economica di tutto l'Occidente, è diventata crisi produttiva dei paesi più legati alla produzione e alla manifattura, è diventata quindi crisi occupazionale, è diventata crisi sociale e dopo quattro anni vediamo quante ferite, quante situazioni pesanti ha generato in tutti i paesi, con particolare concentrazione in quei paesi dell'Europa come il nostro che avevano purtroppo già al loro interno problematiche preesistenti, ad esempio di forti debiti dei propri bilanci. Non è una crisi come le altre perché già questo quadro così violento e così forte, motivato anche dal fatto che lo sviluppo economico che noi avevamo conosciuto nei decenni scorsi ha preso altre latitudini, il baricentro dello sviluppo ormai è come sappiamo il mondo orientale, sono altri paesi, paesi dell'America Latina e in sé questo non è un fatto negativo, però è chiaro che ha delle conseguenze, oltre a questo che già ci ha presentato un conto pesante, noi lo possiamo misurare in termini di centinaia, di migliaia di posti di lavoro perduti e quindi con tutto quello che significa dietro a ogni numero c'è una persona, dicevo oltre a questo che è già un carico insopportabile, la crisi, i processi in atto ci consegnano un altro quadro, un altro pericolo particolarmente insidioso rispetto al quale nessuno, davvero nessuno soprattutto in Europa ha ancora trovato la risposta e la capacità di sapere come fronteggiarlo, anche questo l'abbiamo vissuto in diretta negli ultimi due anni, si affianca purtroppo alle altre realtà che vi rappresentavo ed è un fenomeno assolutamente nuovo, mai conosciuto nella fase del Novecento, del Duemila della modernità, il fatto che i bilanci degli Stati possono fallire e quindi viene meno esattamente, diventa un pericolo quello che era una garanzia, diventa una fonte di rischio quello che doveva essere una fonte di protezione dei cittadini, delle famiglie, dei paesi e questo strano ma davvero insidioso fenomeno compare nel momento più alto della crisi economica e produttiva e occupazionale, si intreccia con questa, determina una nuova problematica, ancora più complicata perché nel momento in cui ci sarebbe bisogno, proprio per fronteggiare la crisi, quella economica e produttiva, di avere delle risorse, delle possibilità ad esempio per fare forti investimenti pubblici, per sostenere i servizi pubblici, che abbiano una funzione di dare garanzia, di dare sostegno, invece per effetto della crisi dei bilanci anche gli investimenti pubblici, anche il sostegno ai servizi pubblici, anche il sostegno alle prestazioni sociali più necessarie quando c'è la crisi, gli ammortizzatori, le tutele, anche questo viene drammaticamente messo in discussione. Presidente, questa è la storia, io ve l'ho riassunta in poche parole anche per avercela presente, questa è la storia che stiamo vivendo in questi anni, in questi due anni ultimi in particolare, ed è talmente violenta nelle sue manifestazioni, ed è talmente mirata purtroppo contro quelle che sono le forme portanti delle convivenze sociali, quando è che il sindacato davvero ha vinto la sua battaglia storica negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, quando è riuscito a costruire, dobbiamo sempre ringraziare i nostri padri che hanno fatto per noi, è riuscito a costruire dentro le società in cui viviamo una rete diffusa di lavoro, di diritto al lavoro e quindi di reddito, di tutele dal punto di vista dei diritti sociali, che hanno via via costruito quella che chiamiamo lo Stato sociale, la coesione sociale, che hanno costruito un'opportunità per milioni di persone di avere livelli dignitosi e decenti di vita. Esattamente questo, quello che noi abbiamo costruito, i nostri padri hanno costruito, diventa adesso il bersaglio di questi fenomeni distruttivi dell'economia, del lavoro, della spesa pubblica e sociale, che sono ovviamente quelli che determinano poi la sofferenza, la grande sofferenza che noi abbiamo. Questo succede perché purtroppo non si è riusciti, altri l'hanno fatto, per esempio alcuni paesi del nord Europa, a dare più forza all'economia, più forza ai bilanci, più pulizia, più equilibrio e questo ovviamente in paesi come tutti i paesi del sud Europa, compreso il nostro paese italiano, diventa un problema molto forte. È talmente violento, e finisco questa considerazione, che come vedete ha fatto saltare come birilli tutti i governi in questi paesi. Nel giro di due anni, in un modo traumatico, come nel caso della Grecia, dove addirittura il governo è stato imposto dal fondo monetario con una persona mandata da New York a fare il presidente della Grecia, l'unico vantaggio che ha, che ha un cognome greco ma non c'entra niente, lui lavorava e viveva a New York e l'hanno mandato lì a fare il presidente del consiglio di quel paese che, diciamo, più di altri rientrato nel baratro di questo processo che vi ho rappresentato. Ma in altri paesi è successo analogamente e sono cambiate in maniera, anche lì tutti i governi, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, che dopo il fallimento clamoroso della politica italiana si è trovata nelle condizioni di dover e dopo una resistenza, una sorta di agonia, durata tutto il 2011 in cui non si riusciva a trovare in nessun modo il bandolo della matassa, sono stati spazzati via come birilli i governi democratici e sono stati costituiti forme di governo o esattamente al contrario di quelli che c'erano prima con le elezioni o forme di governi tecnici, potremmo dire anche con più precisione tecnocratici, che hanno fondamentalmente la funzione di presidiare questi processi in modo tale che non arrivino al fallimento generalizzato, nell'interesse complessivo non tanto dei singoli cittadini di un paese, dei lavoratori, ma nell'interesse complessivo di un equilibrio economico che ad esempio noi in Europa chiamiamo la moneta, chiamiamo l'Unione Europea, chiamiamo quello che è il contesto in cui ci troviamo. È evidente che è obbligata questa strada, è obbligata perché come capiamo tutti il fallimento, il baratro sarebbe 500.000 volte peggio di così, ma è una strada che è naturalmente molto impervia, dicevamo stamattina a Milano, è come se di fronte al fatto che tutte le cure sono fallite, l'unica strada, e in Italia è questo che è successo, è rimasto quello di mettersi nelle mani di un chirurgo, dandogli carta bianca per fare gli interventi necessari, non al benessere del paziente, intanto a salvargli la vita. Tutto il resto, comprese le amputazioni, comprese le forme più drastiche di intervento, sono accettabili per salvargli la vita. Scusatemi dell'immagine un po' pesante, ma è quello che ci siamo tutti sentiti nella pelle quando questo tipo di situazione portata adesso nel nostro paese ci ha visti nel mese di dicembre, fronteggiare in modo assolutamente per noi inedito e che francamente nessuno si aspettava un intervento così forte, così drastico, così pesante sul tema delle pensioni. Guardate, io ve lo dico come l'ho vissuta io, era il 4 dicembre, era una domenica, noi siamo stati convocati alle 10, dopo aver strepitato per una settimana che il governo è stato insediato verso il 20-25 di novembre, a Palazzo Chigi, alla Presidenza del Consiglio, siamo stati convocati alle 10 di mattina del 4 dicembre. Alle ore 18 dello stesso giorno è stato emanato il decreto che ha fatto un intervento così pesante nella vicenda pensionistica che ha creato un guaio generalizzato perché ogni persona si è trovata come minimo con 3, 4, 5, 6 anni in più da lavorare e soprattutto ha creato quel guasto che va adesso, diciamo così, riparato, ma è veramente un guasto fortissimo nella stessa logica anche della tutela minima delle persone che sono appunto i lavoratori che si sono trovati proprio in mezzo al guado, quelli che avevano già lasciato il lavoro, che avrebbero dovuto lasciarlo in base agli accordi sindacali sui licenziamenti, appunto gli esodati, come dice il cartello, per i quali appunto circa 200-300 mila persone ci siamo trovati in questo modo. Ma quella è la conseguenza di che cosa? Del fatto che il chirurgo, allora eravamo nella piena emergenza derivante da mesi e mesi di confusione, di paralisi, il chirurgo ha fatto come tutti i chirurghi la prima cosa che gli è venuta, quella più facile e quella più immediata. La spesa previdenziale è di 253 miliardi di euro all'anno. Intervenire lì significa risparmiare tanti soldi e chiudere per 4, 5, 6 anni l'aumento della spesa previdenziale, cioè di gente che sarebbe andata in pensione anche se andava a godere dei propri contributi, nulla di più che dei propri contributi, significa risparmiare 15-20 miliardi. Punto. Non ha guardato in faccia nessuno anche perché quelli che l'avevano chiamato non avevano nessun diritto a farsi guardare in faccia perché avevano fallito loro precedentemente nel compito che li era fidato. Siamo andati di mezzo noi purtroppo e non c'è stata possibilità, mancando la concertazione, mancando il confronto, chiamiamolo la trattativa, di fare se non qualche marginale, anche se naturalmente tutto è importante, piccola modifica in quei pochi giorni in cui il provvedimento è rimasto alle Camere perché dal 4 di dicembre, ve lo ricordo perché ce l'abbiamo tutti scolpito nella mente, il 22 dicembre quel provvedimento era già legge dello Stato approvata da entrambe le Camere sostanzialmente senza colpo ferire. E questo è il contesto in cui, soprattutto per gli impegni che questa situazione ha fatto assumere al governo, chiamiamolo il governo tecnico, senza personalizzare, ha fatto assumere a livello europeo. Questa è la situazione che noi ci troveremo nei prossimi mesi per l'arco di tempo in cui ci sarà questo governo. Ma guardate, cambierà il chirurgo, sarà un chirurgo politico dopo le elezioni del prossimo anno, ma non cambierà il meccanismo perché noi abbiamo un fardello complessivamente, noi intendo come Paese, che per i prossimi anni, in base anche agli accordi che in Europa si sono poi siglati in questi mesi, il primo marzo in particolare, si è siglato definitivamente l'accordo che permetterà che gli Stati vengono aiutati con un fondo salva Stati, appunto per salvarli dai fallimenti, ma vengono aiutati a condizioni molto pesanti, che per noi significa avere di fronte per un periodo molto lungo, esattamente per vent'anni, una situazione in cui ogni anno bisognerà fare dei provvedimenti che oltre a garantire il pareggio del bilancio, e Dio sa quanto ci costa solo il pareggio per i meccanismi di spesa innestati, dovremo anche recuperare una parte consistente del debito eccedente, la quantità possibile prevista da quegli accordi, ma lasciamo stare, lo scenario non cambierà, questo scenario difficile ci dovremo fare i conti per molto tempo, e come dicevo prima, è uno scenario per il sindacato complicatissimo, per tutto quello che già è successo, e quindi il tema del lavoro, il tema delle tutele sociali, la previdenza, il tema, avete sentito, dei meccanismi perversi che si sono innestati nel mondo della scuola, nel mondo in generale della spesa pubblica, ed è chiaramente un processo che colpendo esattamente i due gangli vitali, come se fossero i due polmoni di un movimento che tutela socialmente le persone, i lavoratori e i pensionati, ci obbliga ad avere grande determinazione, grande lucidità nel come affrontare quei problemi. Noi dobbiamo in pratica, lo dico con parole anche qui il più possibile semplici, dobbiamo cercare di afferrare le mani di quel chirurgo e dobbiamo fargli fare gli interventi che siano più giusti rispetto alla situazione, sapendo che la sfida è durissima perché gli interventi più giusti sono quelli di non tagliare la spesa pubblica che serve a famiglie, a persone, che ha una funzione sociale, ma di tagliare tutti quegli elementi, li riconosciamo, sono tanti, li avete detti, l'evasione, la corruzione, gli sprechi, i grandi privilegi, i grandi patrimoni, in modo tale che queste forze che sono molto radicate nella società, che sono molto radicate nella politica e lo sono ancora, queste forze sono molto più difficili da affrontare perché ovviamente presuppongono uno scontro, presuppongono una capacità di incisività, presuppongono una capacità di avere anche una determinazione che mal si accompagna a tempi stretti e a tempi brevi e intanto quindi il chirurgo è partito da dove era più facile tagliare e questo è l'elemento che rimane aperto e noi diciamo, lo diciamo con forza anche in quella piattaforma di cui prima si parlava il 17 di gennaio su cui tornerò, che davanti al sindacato c'è una stagione nella quale certamente, utilizzando la mobilitazione, utilizzando anche la presenza, le manifestazioni, utilizzando anche quando necessario forme di sciopero, di iniziativa conflittuale, ma soprattutto noi dobbiamo conquistarci innanzitutto il diritto a guidare diversamente le mani di chi deve operare nell'interesse di salvaguardare il futuro di questo Paese. Oggi sono stati indirizzati in gran parte con le pensioni in un modo sbagliato, noi dobbiamo avere la forza, la convinzione e l'impegno di prendere quelle mani, di discutere fortemente con quei soggetti che hanno responsabilità istituzionale e di portarli ad affrontare i problemi che si possono affrontare e che si debbono affrontare sul versante di una maggiore equità, di andare a reperire da altre parti le risorse, di fare finalmente quelle iniziative che si stanno iniziando a fare in modo ancora episodico sull'evasione, sui patrimoni, i meccanismi che ben conosciamo per affrontare le principali iniquità del nostro sistema. Quindi davanti a noi avremo in questo tempo e nei prossimi tempi avremo la necessità di spendere davvero la forza, la rappresentanza del sindacato che non a caso vogliono mettere in discussione continuamente anche cercando di associarci, no veniva fuori anche stamattina, di associarci a quel malcostume che c'è nella politica, nei bilanci, nei tesorieri eccetera quando fanno trapelare che i nostri caffi, i nostri patronati, i sindacati è tutto fasullo, è tutto falso quello che dicono ma intanto il messaggio passa. Quindi difendiamoci questa rappresentanza, dicevo usiamo questa forza e questa rappresentanza per cercare di portare i nostri temi al tavolo, al confronto, alla consapevolezza nelle scelte che il governo è chiamato a fare. Avendo un problema che non avevamo forse in altri tempi è difficile dialogare con un governo ed è quasi impossibile molto spesso come nelle pensioni, che si sente assolutamente senza alternative, che si sente in grado di non rispondere a nessuno e di poter dire io siccome non devo chiedere i voti a nessuno faccio quello che ritengo opportuno rispetto a un mio programma e questo ci porta a parlare di una di queste trattative ma ne dovremo fare tante perché quando affronteremo seriamente e speriamo di poterlo fare presto il meccanismo della crescita, il meccanismo della fiscalità, dei redditi, troveremo lo stesso problema che troveremo una difficoltà molto ruvida a entrare nel merito perché ci sono meccanismi consolidati e convinzioni consolidate. Dicevo la trattativa sul lavoro è una di queste. Lì il governo si è presentato esattamente come il 4 di dicembre con una impostazione molto rigida e molto semplice che diceva sostanzialmente questo, faceva parte dello stesso filone che abbiamo visto sulle pensioni l'idea non era tanto affrontare i problemi, quello poi ci siamo riusciti piano piano attraverso le proposte sindacali l'idea era poter dire e poter portare in Europa come sulle pensioni un messaggio come dire concreto e sostanzioso che l'Italia stava cambiando, che l'Italia non aveva più i vecchi stereotipi, i vecchi vizi che l'Europa ci doveva e ci ha sempre addebitato. Andate in pensione troppo presto, c'è troppa rigidità nel lavoro, tutte cose non vere fondamentalmente e davvero non vere ma tutte cose che purtroppo hanno fatto breccia tant'è che l'ambasciatore, il nostro Presidente, che è il Presidente del Consiglio solo per un motivo come tutti sappiamo bene, che era l'unico volto spendibile e presentabile di una classe politica che aveva esaurito tutta la credibilità possibile, l'unico volto sperimentabile e presentabile a livello europeo e quindi lui su questa base ha detto io a quel livello debbo portare delle leggi, dei provvedimenti che facciano capire all'Europa anche sui loro pregiudizi che le cose in Italia sono cambiate. E vi dicevo, sul lavoro esattamente come sulle pensioni il meccanismo era lo stesso, di lì brutalmente si è detto si va in pensione troppo presto tutti sei anni in più, cinque anni in più sul lavoro il meccanismo era semplicissimo, c'è troppa tutela contro i licenziamenti quindi cancelliamo questo articolo che tutela i licenziamenti individuali, l'articolo 18 c'è troppa tutela quando si perde il lavoro perché la gente sta troppo negli ammortizzatori sociali e quindi lasciamo la cassa integrazione ordinaria proprio per le vicende più contingenti e più congiunturali e tutto il resto venga eliminato in modo tale che si possa dare risorse allo sviluppo o meglio che si risparmino risorse che vengono utilizzate per la tutela sociale. Rispetto a questo, e quindi veniamo adesso al merito, la CISL, devo dire insieme agli altri sindacati perché questa situazione così pesante, così difficile, così insidiosa ha bisogno che ci sia la collaborazione di tutti i sindacati, ha fatto una cosa importante, lo diceva il delegato appunto che è intervenuto i primi di gennaio proprio sulla scorta della difficoltà e del trauma della vicenda pensionistica il primo di gennaio è stata costruita una piattaforma, un documento comune proprio essenzialmente sui problemi del lavoro, vista l'emergenza anche del lavoro che c'è che è stato elaborato dal sindacato, che è stato condiviso da tutti i sindacati che ci è servito tantissimo nel primo incontro col governo che avveniva in quei giorni per dire al governo noi vogliamo parlare di lavoro ma non vogliamo parlare della tua agenda vogliamo parlare del modo in cui chi rappresenta il lavoro vede oggi le cose che si possono fare sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro, per le persone che vengono purtroppo facilmente con la crisi espulse dal posto di lavoro guardate io non ve la faccio lunga, poi entrerò nel merito anche di quello che siamo arrivati però vi invito davvero se avete un attimo di tempo, questo anche nel rapporto con le altre organizzazioni con i delegati nei luoghi di lavoro che oggi c'è una polemica forte è una situazione anche che ci vede un po' in difficoltà rispetto a questo di leggere quel documento dei tre sindacati e di vedere quanto di quel documento ritroviamo nella trattativa che abbiamo fatto e in particolare nella conclusione della trattativa cioè quel testo finale che adesso diventerà in questi minuti, stanno facendo la conferenza stampa a disegno di legge e che sarebbe potuto essere, forse era molto meglio invece un accordo tra le parti più che solo un verbale di trattativa, ma comunque quello è l'esito di una trattativa voi troverete in quel documento del governo, in questo disegno di legge, troverete moltissime quasi tutte, direi una parte veramente grande delle cose che il sindacato ha posto quindi questo è il primo punto anche per affrontare la discussione questa riforma del lavoro non è un diktat e un'imposizione del governo lo sarebbe stato se si fosse parlato malamente solo dell'articolo 18 o di tagliare gli ammortizzatori questa riforma del lavoro ovviamente nessuno può pensare che è esaustiva e che basta perché ci vuole certamente perché ci sia il lavoro, ci vuole sviluppo, ci vuole crescita però per quanto riguarda le politiche del lavoro va nella direzione che il sindacato aveva posto e aveva chiesto in particolare io vi voglio citare alcuni esempi anche per darvi qualche informazione che vi può aiutare ma leggendo i testi li trovate anche voi, li trovate anche molto bene per esempio, lo diceva più di un intervento, questo è importante passa un principio dopo molti anni, forse per la prima volta che ci saranno risorse pubbliche per incentivare le assunzioni questa non è una novità ma soprattutto incentivare le assunzioni per lavori che siano tendenzialmente lavori stabili e per converso tutte le altre forme di lavoro quelle diciamo meno stabili quelle flessibili, il tempo determinato il tempo somministrato il contratto a progetto hanno dei costi e dei vincoli maggiori quindi il tentativo è quello di dire in un momento in cui attenzione, nel mercato del lavoro ogni 100 persone che entrano 80 sono con questi contratti e 20 sono con i tempi indeterminati quindi c'è una tendenza proprio forse anche per la sfiducia certamente perché sono contratti meno impegnativi eccetera le aziende tendono a fare contratti sbrigativi e rapidi la riforma disegna un'altra prospettiva dice alle aziende ti incentiviamo le assunzioni ti diamo la possibilità di non pagare contributi o di pagarne molto meno se tu assumi e noi avevamo individuato l'apprendistato con un vincolo alla stabilizzazione che per legge è stato messo in questa riforma al 50% e che nei contratti è anche più alto quindi un apprendistato che va che sbocca nel tempo indeterminato questo contratto viene incentivato costa meno quindi ti conviene farlo così come costa meno quando fai un contratto per reinserire al lavoro un lavoratore che ha perso il posto e che magari dopo i 50 anni fa una grande difficoltà a trovarlo quindi la possibilità di dare una spinta alla buona occupazione non è risolutivo naturalmente serve anche come dicevamo sviluppo crescita investimenti e questo è il lavoro da continuare a fare però è importante che sia così anche perché gli altri contratti costano di più il tempo determinato il lavoro a progetto pagherà i contributi esattamente finalmente dopo molti anni come il lavoro a tempo il lavoro subordinato il lavoro somministrato costerà anch'esso darà un contributo maggiore già lo dava e quindi noi chiudiamo una valvola pericolosissima la rendiamo più costosa meno conveniente per quanto riguarda le forme di lavoro e anche quando vengono assunti questi lavoratori in questo modo cerchiamo di fare in modo che se li trasformano a tempo indeterminato possano avere degli incentivi se li assumono a tempo invece determinato hanno dei costi dei costi aggiuntivi ripeto non è risolutivo ma è importante e aiuta aiuta tantissimo così come aiuta soprattutto i giovani il fatto che in maniera molto decisa infatti le polemiche sono forti delle forze datoriali anche in questi momenti in maniera molto decisa vengono colpiti con regole più rigide delle forme contrattuali che sono delle vere e proprie degenerazioni molto insidiose guardate che si sono insinuate nelle pieghe dei lavori dei lavori dei servizi dei lavori per esempio come l'edilizia nei territori in maniera molto diffusa le false partite IVA le associazioni in partecipazione questa ve la racconto è uscito il primo disegno di legge era uscito venerdì scorso il 23 marzo immediatamente il giorno dopo una grande azienda una grande azienda di distribuzione si è fatta avanti minacciando fuoco e fulmini perché abbiamo scoperto che questa azienda aveva 1200 non 12 non 120 1200 soprattutto donne commesse che erano in associazione in partecipazione cosa vuol dire? vuol dire che tu per essere assunto loro ti dicono tu vuoi lavorare da me benissimo diventi socio dell'azienda e qual è la società che tu porti all'azienda? il tuo lavoro e quindi ogni mese quando io ti pago non ti do lo stipendio che dovresti avere ti do invece di 1000 euro poniamo ti do 500 euro perché gli altri 500 sono la partecipazione alla società questa cosa era entrata ed è entrata con la riforma viene cancellata non si può più fare si può fare solo tra padre e figlio tra marito e moglie nelle aziende familiari se lo vogliono fare dove ha un senso la partecipazione naturalmente le partite IVA fenomeno qui gli amici dell'edilizia potrebbero raccontarlo molto diffuso in cui tu vuoi lavorare per me mettiti in proprio e poi lavori comunque per me esattamente come un dipendente non ti pago più io ti pago una prestazione onnicomprensiva i contributi sono inferiori e niente non c'è contratto di lavoro c'è una sorta di meccanismo privato che ovviamente sempre a danno non ha la tutela che può avere un contratto di lavoro queste partite IVA con dei criteri molto stringenti più di sei mesi all'anno di lavoro per un unico committente tre quarti di reddito che da un unico committente postazioni lavorative in un unico committente danno diritto fino a prova contraria ovviamente ma se vengono esercitati a diventare lavoro dipendente quindi avere le tutele del contratto di lavoro e di quello che è collegato al contratto di lavoro quanti nostri conoscenti giovani ragazzi dopo la scuola si perdono nei meandri dei tirocini e degli stage quanti ce ne sono dove lavorano per poche decine di euro e dove la promessa è quella intanto conosci il lavoro e poi dopo ti assumo e dopo finisce il contratto di tirocinio che non è un contratto e rimani con un'altra prospettiva da cercartene solo un altro vengono ricondotti dentro l'iter scolastico cioè si faranno i tirocini e gli stage ma come è giusto come avviene negli altri paesi si faranno come meccanismi di incrociare il lavoro finché studi finché ti forni in modo tale che aumenti le possibilità di averlo mi fermo qui ce ne sono altre ci sarà la legislazione contro le dimissioni in bianco sapete anche questo un fenomeno diffuso di grossa incertezza ci sarà l'estensione del permesso di soggiorno per chi perde il lavoro parlo di immigrati nei momenti di crisi e quindi anche durante la crisi rimane questa tutela ci saranno delle norme sempre in questo testo che faciliteranno o meglio renderanno più difficile alle aziende ad eludere gli obblighi che hanno purtroppo un fenomeno molto diffuso sull'inserimento dei lavoratori disabili cioè c'è una netta impostazione che cerca di tutelare la parte del lavoro dentro questa crisi così difficile sul versante di dargli opportunità lavorative più solide come diceva giustamente Gigi la debolezza non è solo nel momento della conclusione anche lì quando c'è il rischio di licenziamento dobbiamo tutelarlo ma innanzitutto e se tu hai un lavoro incerto assolutamente temporaneo senza prospettive addirittura abusivo sei debolissimo non hai proprio nessuna possibilità e quindi qui si cerca di rendere una strada un po' più chiara e ripeto non è risolutivo però è uno strumento in più per fare sindacato poi nelle aziende nei territori avere un aiuto maggiore da questi strumenti che abbiamo messo in campo gli ammortizzatori sociali qui come vi dicevo la battaglia era complicata per questa impostazione molto dirigistica del governo e si è fatto io credo un buon lavoro innanzitutto è passato era impossibile che non passasse lì almeno lì riusciamo siamo riusciti a convincerli è passato il fatto che essendo in piena recessione siamo almeno 2% anche quest'anno purtroppo l'emergenza che ha determinato gli ammortizzatori in deroga non è finita quindi quell'emergenza ci permetterà di avere sia nel 2012 sia nel 2013 il finanziamento degli ammortizzatori in deroga esattamente come li abbiamo visti e conosciuti in questi anni perché non si chiude la protezione sociale nel momento in cui c'è l'emergenza più alta come quella di adesso 2012 e 2013 sono quindi diciamo si va avanti cercando di utilizzare le risorse e di trovare le risorse da utilizzare per avere quindi ammortizzatori che riguardano l'insieme delle tipologie lavorative le grandi le piccole aziende le realtà artigianali tutto quello che in questi anni egregiamente abbiamo fatto io credo che dobbiamo valutare anche quello che si è fatto in questi anni perché nonostante la crisi si è riusciti per esempio a dare un sostegno al reddito in maniera molto molto diffusa e questo è un merito incontestabile del sindacalismo della capacità di stare vicino alle situazioni e ai problemi ci sarà il tempo quindi per fare una riforma una riforma che non è nel segno iniziale di una restrizione ma è nel segno di una maggiore qualità degli ammortizzatori sociali cioè innanzitutto il meccanismo qual è? è quello di dire tutti devono essere coperti in particolare dobbiamo cercare di coprire realtà nuove che si sono create ne parlerò come i lavoratori anziani ma il meccanismo di copertura deve essere tale da mettere in moto subito oltre al sostegno al reddito anche le politiche perché le persone che vanno negli ammortizzatori loro malgrado che nessuno ci va volentieri possano avere una veloce più veloce più rapida di oggi che è quasi che è molto difficile avvenga possibilità di un reimpiego una riqualificazione professionale per avere delle opportunità lavorative una solida riformazione di competenze nel caso sia necessario farlo perché magari i lavori possibili sono in settori dove questa persona non ha le sue capacità è un mondo diverso noi gli ammortizzatori culturalmente salvo negli ultimi anni li abbiamo sempre pensati come una sorta di via di uscita come una forma di sostanzialmente di assistenza quando si perde il lavoro e si va poi verso il pensionamento non sarà più così dobbiamo cercare di mirarli proprio a questo tema di ricollocazione nell'interesse delle politiche del lavoro con strumenti come vi dicevo anche incentivati per chi assume lavoratori dalla cassa integrazione dagli ammortizzatori eccetera dopo il 2013 cosa ci sarà realmente un sistema solido sia per le aziende prima che ci sia il licenziamento quindi quando c'è una crisi temporanea una crisi anche strutturale manteniamo tutto il meccanismo della cassa integrazione come lo conoscevamo ordinaria straordinaria in tutti i casi salvo una piccolissima eccezione che è molto molto limitata i contratti di solidarietà rimangono e poi i settori non coperti attenzione questo è importante non coperti oggi dalla cassa integrazione quelli per cui abbiamo dovuto appunto estendere la cassa in deroga da qua al 2014 dovranno costruirsi dei fondi attenzione della parola perché è importante dei fondi bilaterali di solidarietà che siano naturalmente presso l'Inps e quindi abbiano una valenza anche obbligatoria perché anche quei settori devono avere una copertura quando le aziende dovessero avere dei problemi di lavoro cioè cerchiamo di trattenere il più possibile aiutando anche i momenti di crisi i lavoratori presso le aziende quindi impedire che una difficoltà aziendale diventi automaticamente un licenziamento è importante questo da strumenti proprio anche al sindacato l'Italia è un paese che ha il 95% piccole imprese e i settori diffusi polverizzati e noi lo sappiamo perché abbiamo categorie che fanno un lavoro importante in questi settori con grandi difficoltà avranno uno strumento in più dopo il licenziamento come avete sentito nasce questa nuova assicurazione sociale per l'impiego che è la vecchia disoccupazione un po' più lunga un po' più estesa anche vale un po' di più come soldi 150 euro circa il mese in più circa 6 mesi in più di durata e riguarda tutti quindi anche qui l'occhio è a tutto il mercato del lavoro anche a quelli che avevano solo questa tutela gli 8 mesi che oggi diventeranno un anno avevano i 12 mesi se avevano un'età più alta oggi diventerà un anno e mezzo e avevano un'indennità che era il 60% oggi sarà il 75% di quello che prendevano quando lavoravano quindi una cosa che va nella direzione di migliorare la tutela quando disgraziatamente perdi il lavoro questa indennità questa assicurazione sociale ingloberà anche in 5 anni per chi ce l'aveva la indennità di mobilità che però resterà poi come fondo per aiutare esattamente come già avviene in alcuni settori qua forse ci sono anche alcuni amici bancari e altri settori che hanno questo sistema questo fondo che prima dava la mobilità adesso sarà concentrato lo faremo entro il 2015 questo lavoro c'è tempo perché è lunga la transizione sarà concentrato a dare una mano concretamente con un fondo specifico ai lavoratori anziani che venissero licenziati diciamo oltre i 60 anni in modo tale che quella cifra mitica dei 66 anni che oggi sembra quasi raggiungibile possa essere più raggiungibile per chi dovesse trovarsi nella disgraziata condizione di perdere il lavoro oltre una certa età sapendo che è difficilissimo trovarlo ma si potrebbe anche con quel fondo qui avete parlato di lavori pesanti giustamente per esempio attuare una norma di legge che già c'è ma che ha bisogno di essere un po' finanziata che è quella di dire che dopo negli ultimi 5 anni di lavoro si può fare il part time e quindi chi ha un lavoro pesante questo sarebbe un grande vantaggio naturalmente bisognerebbe evitare che ci fosse un massacro dal punto di vista previdenziale quindi andrebbero integrati i contributi in modo tale e anche un po' il reddito che lo potesse fare senza quindi forme che dovremo imparare a frequentare per dare concretamente una mano a questa fetta di popolazione con cui noi non facevamo i conti prima perché non c'era se ne andavano in pensione e che adesso invece saranno con tutte le conseguenze dette nel posto di lavoro finisco qui su questo punto però sottolineo un aspetto contrattualmente nell'azione sindacale oltre a quello che dice la legge qui c'è uno spazio concreto importante per fare tutela per andare appunto a star vicino alla gente con strumenti nei momenti che avremo ancora nei prossimi anni di difficoltà nel lavoro che ripeto già abbiamo sperimentato e sappiamo quanto quanto sono duri arrivo all'argomento clou che abbiamo fatto in modo che non fosse clou anche se lo è diventato l'articolo 18 noi non eravamo appassionati ve lo dico subito non era una buona idea quella del governo di cancellare questo articolo perché questo articolo contrariamente a quello che si pensa non è la causa di tutti i mali è un articolo che ha una funzione importante anche se in verità molto ridotta molto più ridotta di quello che si pensi oggi ed è un articolo che impropriamente è stato additato come diciamo no la somma di tutte le difficoltà non è così però ha una sua funzione quindi non era possibile accettare passivamente che questo articolo venisse cancellato la CIS si è assunta la responsabilità devo dire ce la siamo assunta assieme agli altri sindacati nel momento in cui abbiamo detto sentite noi vogliamo discutere dei problemi del lavoro quindi parliamo prima di come si assume di come si favoriscono le assunzioni di come si mettono a posto i lavori degenerati degli ammortizzatori sociali se il governo vuol parlare dell'articolo 18 ne parleremo alla fine quando abbiamo risolto le altre questioni e così è stato cosa si è fatto in questa discussione si è affrontato attenzione questo è importante non la cancellazione non l'abolizione come purtroppo con un linguaggio allarmistico sentite dire anche in questi giorni in giro per i luoghi di lavoro si è cercato di fare una modifica noi l'abbiamo chiamata una manutenzione che avesse la funzione di salvaguardare l'articolo 18 soprattutto nei momenti in cui il licenziamento individuale diventa un abuso contro i lavoratori per motivi di discriminazione che c'era già e rimane per motivi disciplinari o per presunti motivi economici utilizzati in un altro in un altro modo e l'abbiamo fatto facendo sostanzialmente una proposta che da quello che abbiamo saputo anche proprio in queste ore sembra sia definitivamente passata auguriamocelo vedremo i testi che era quella di adottare un meccanismo simile a quello che adottano gli altri paesi diciamo con cui ci confrontiamo la Germania in particolare ma anche la stessa Francia eccetera tutto il sistema del nord cioè che ci sia e rimane il fatto che se un lavoratore subisce un licenziamento che ritiene ingiustificato ricorre a un giudice e il giudice giudica quel licenziamento e giudica la legittimità di quel licenziamento e se quel licenziamento non è legittimo dispone una sanzione nei confronti dell'impresa la diversità dal nostro ordinamento del nostro ordinamento quello degli altri paesi era che questa sanzione mentre negli altri paesi da sempre era sostanzialmente di due tipi cioè nei casi diciamo così più gravi il reintegro nei casi meno gravi un forte indennizzo un indennizzo in Italia invece soprattutto negli anni 70 si è fatto quella scelta che il giudice avesse un solo meccanismo di sanzione cioè il reintegro la realtà di questi anni non è andata esattamente in questa direzione perché come sanno anche i nostri amici degli uffici vertenze nei processi nei pochi processi che si fanno e che a volte vengono vinti a volte vengono persi dai lavoratori perché i processi sono così purtroppo quando li vincono i lavoratori e quindi quando il giudice dispone il reintegro in una percentuale altissima di casi il lavoratore sceglie lui l'indennizzo perché per molti motivi perché non si torna dove si è litigato tante volte è passato molto tempo per tanti motivi quindi dal punto di vista concreto la funzione di tutela è sostanzialmente inalterata importante importante che ci sia la possibilità del reintegro non che come in una prima versione soprattutto su un tipo di licenziamenti era sostanzialmente diciamo così scomparsa e poi l'abbiamo faticosamente recuperata speriamo con oggi di aver portato a compimento quindi in pratica la trattativa è stata facciamo in modo che il giudice possa decidere e diamoli delle causali cioè dei dei tipi dei motivi per come deve decidere ne abbiamo trovati finora quattro stasera finalmente una quinta che dovrebbe essere anche abbastanza risolutiva e io ve le racconto perché ne possiate parlare cioè il reintegro rimane né allora nelle discriminazioni c'era anche prima e rimane esattamente come prima non voglio dire nulla in più perché sarebbe sbagliato quando c'è un licenziamento per mancanze cioè quelli che si chiamano licenziamenti disciplinari sono tre fatti specie in cui il giudice deve ordinare il reintegro e quindi e altre invece in cui può cioè deve dare l'indennizzo quindi può dare reintegro indennizzo in queste tre il reintegro che sono quando il fatto contestato al lavoratore non è stato commesso spessissimo succede quando il fatto contestato non è conforme al contratto nazionale quando questo non lo dice nessuno ma è più importante degli altri due che sono moltissimi processi quando si è malati purtroppo quando si supera sapete come sono i meccanismi di conservazione del posto periodo di comporto eccetera danno origine a molte interpretazioni diverse quando non c'è questo giustificato motivo lì ci deve essere il reintegro quindi tre casi che sono diciamo in una casistica di un migliaio di casi all'anno sono casi molto consistenti in cui rimane il reintegro questo sui disciplinari su quelli economici cosiddetti cioè derivanti non da una mancanza del lavoratore e quindi un addebito di colpa e quindi un licenziamento ma derivanti come diceva prima il simpatico amico della filca dal fatto che vendono il camion e quindi non c'è più lavoro per l'autista no cioè dal fatto che l'azienda lì già si dice che nel testo che abbiamo potuto vedere ma che non è diventato un accordo e quindi non è stato perfezionato perché a un certo punto il negoziato si è chiuso non per colpa della CISL ma per altre scelte di altri sindacati si dice che già oggi c'è il reintegro quando il motivo economico nasconda degli altri motivi esattamente il caso che l'amico qui ha rappresentato ti dico ti licenzio perché ho venduto il camion ma in realtà ti licenzio perché sei un delegato quindi lì c'è il reintegro stanotte si spare si sia concluso vedremo il testo adesso che uscirà che anche esattamente come nel caso precedente dei disciplinari quando non c'è il motivo economico per il licenziamento quindi quando anche economicamente ci sono delle altre possibilità palesemente sarà la parola palesemente si palesemente manifestamente o palesemente ci sono altre possibilità sostanzialmente ci sarà anche in questo caso la possibilità del reintegro quindi noi possiamo dire lo possiamo dire col cuore come dire non gioioso ma col cuore di verità che l'azione del sindacato la trattativa del sindacato ha permesso di salvaguardare la funzione l'architettura dell'articolo 18 cioè rimane il processo rimane un giudizio di un giudice su un fatto e un giudizio di legittimità e questo è un deterrente molto forte in ogni caso tant'è che ricorrono pochissimo rimane anche il fatto che quel giudice esattamente come il suo collega tedesco può dare il reintegro può dare l'indennizzo e nel nostro caso è anche accompagnato da alcune causali che rafforzano la possibilità del reintegro non è solo questo guardo Gualtiero Biondo che me l'ha chiesto un miliardo di volte e l'abbiamo fatto si è inserito nell'accordo nel tentativo di accordo sarà nella legge una cosa che oggi non c'è a proposito di licenziamenti facili perché giustamente diceva il nostro amico ultimo che ha parlato noi quando c'è un'azienda che vuole fare licenziamenti collettivi abbiamo una procedura la 223 c'è l'obbligo dell'ufficio del lavoro c'è l'obbligo della trattativa c'è l'obbligo c'è una serie di obblighi dei criteri da rispettare alla fine dei quali si cerca di ridurre al minimo i licenziamenti si cercano delle alternative si fa quello e in genere alla fine si trovano degli accordi spesso quelli che andavano in pensione le cose che abbiamo fatto mille volte nelle aziende questa procedura non c'è oggi per i licenziamenti economici di tipo individuale che sono tanti oggi prima della riforma attenzione un lavoratore licenziato perché il padrone gli dice non c'è più lavoro ha solo una chance se vuole se se la sente se pensa che non sia vero fa il ricorso al giudice e come abbiamo visto se fa il ricorso al giudice anche con la riforma in quei casi che abbiamo detto se non c'è il motivo eccetera ha diritto al reintegro siccome moltissimi non fanno ricorso al giudice perché o non lo sanno eccetera abbiamo inserito esattamente come avviene negli altri paesi obbligatoriamente il padrone l'imprenditore che vuole licenziare un lavoratore per motivi economici prima di licenziarlo quindi non dopo quando è già liceo prima di licenziarlo deve fare una procedura obbligatoria deve scrivere all'ufficio del lavoro e deve dire io licenzio Giorgio Santini perché non ho lavoro non ho lavoro perché quel mercato si è chiuso lo spiegherà lui l'ufficio del lavoro entro sette giorni quindi subito deve convocare le parti sindacali e datoriali con quel lavoratore con quell'azienda e lì devono trovare se è possibile una soluzione che personalmente mi è successo tante volte ma accadono a tanti anche di voi si fa tutto il possibile per trovarla per esempio io nella mia spenza sindacale ho fatto un sacco di trasformazioni per esempio di rapporti di lavoro da impiegato a operaio di demansionamento qualche volta pur di salvare il posto di lavoro oggi c'è uno spazio in più non in meno come sentite dire smantellamenti eccetera uno spazio in più obbligatorio che soprattutto se poi ci sarà il processo se per caso non si trova l'accordo è importantissimo perché il giudice sentirà quello che è successo in quella trattativa e se lì il padrone voleva come si dice ci saranno licenziamenti facili nessuno più avrà limiti se voleva fare il furbo cioè il maligno verrà più facilmente condannato perché emergerà che non c'è il motivo ma in ogni caso è importante che si faccia questa procedura quindi letta con gli occhi di chi dovrà affrontare nei luoghi di lavoro e nel territorio una difficile stagione in cui questi casi purtroppo si sono già verificati si continuano a verificare si verificheranno c'è una possibilità in più bene è difficilissimo lo stesso ma è qualcosa che ci può aiutare ripeto mi conferma Gigi che l'ha detto anche Monti quindi questa cosa si è adesso ci sarà nella legge si è compiuta questo ci permette di affrontare la discussione anche in Parlamento che ci sarà come è giusto che ci sia con quell'atteggiamento di vigilanza che veniva chiesto con il fatto che va preservato l'equilibrio perché tanto per essere chiari le imprese non hanno vissuta benissimo questa riforma oggi stesso da quando si è diffusa la voce che c'erano anche queste altre ulteriori richieste sindacali che venivano accolte hanno già cominciato a tempestare di comunicati eccetera contro piuttosto che questa riforma nessuna riforma quindi sembrano parlare loro il linguaggio che parlano alcuni nostri colleghi sindacali naturalmente in maniera opposta come significati questo sta a significare che in Parlamento il vero rischio non sarà l'articolo 18 che con queste modifiche le vedremo le valuteremo meglio può rappresentare un equilibrio sarà purtroppo che quelle cose che vi ho detto prima quelle che vanno nell'interesse dei lavoratori verranno di nuovo valutate e questo mi porta a dire l'ultima cosa e poi concludo e vi ringrazio anche per l'attenzione perché sono temi complicati e vedo che siete proprio molto molto attenti ed è giusto che sia così voi avete detto giustamente quando si fanno le trattative quando si fanno gli incontri quando si comunica all'esterno bisogna tener conto che poi c'è una realtà nei luoghi di lavoro c'è una realtà e questo è assolutamente vero i temi sono complicati l'informazione ha delle regole vi assicuro assurde perché vedete voi avete ascoltato il ragionamento che io vi ho fatto per circa un'ora ed è un ragionamento non semplice un giornalista ti chiede solo una cosa rimane o no l'articolo 18 punto che come abbiamo visto uno dei problemi delicatissimo certo ad alto valore simbolico allora certe anche difficoltà nascono da questo però l'unico vero errore se vogliamo chiamarlo così lo dico per sapete qual è stato quello che io per esempio personalmente assieme a Raffaele non riusciamo a capacitarci che dovevamo avere più coraggio e dovevamo firmarlo l'accordo di fronte alle difficoltà non lasciare allora il governo ne aveva poca voglia perché come vi ho detto aveva un'altra idea in testa il rifiuto secco di continuare a trattare di una parte del sindacato ha determinato invece che determinare una maggiore forza di concludere come sarebbe stato importante ha determinato un disimpegno veloce del governo che si è rifugiato nella mediazione adesso con il Parlamento con i partiti per venirne fuori e ha sottratto questo tema dal miglioramento possibile già in trattativa per quello noi abbiamo detto noi chiedevamo il modello tedesco cioè la possibilità delle due sanzioni e fino a che non l'abbiamo ottenuto abbiamo continuato a chiederlo e adesso auguriamoci che ci aiuti anche ad affrontare e allora questo ci fa dire però che se abbiamo fatto un errore l'abbiamo fatto per non complicare di più la vita nel pensiero anche che i nostri colleghi avessero un po' più di attenzione al linguaggio e alle parole guardate è stato detto e l'ha detto bene Gigi anche nel suo tema cos'è che ci unifica come sindacati in questa vicenda tantissime cose tutte le cose che abbiamo chiesto e ottenuto e anche in fondo la mediazione positiva che sta venendo fuori sull'articolo 18 che ci permette di poter dire che non è smantellato ma mantiene la sua funzione pur essendo più elastico naturalmente questo lo capiamo tutti vi lascio con un'immagine ne parlavamo anche stamattina vedete io come tutti voi con responsabilità diverse si parla si riflette si ragiona si guarda anche dentro questi tempi così strani e si cerca qualche qualche riferimento qualche paragone nella storia in quello che è capitato nel sindacato qualcuno diceva prima giustamente l'84 in fondo l'84 era una cosa molto simile pensate abbiamo fatto un accordo anche allora non potevamo farlo fu un decreto che tradusse l'accordo che riduceva formalmente riduceva la busta paga eppure alla fine è stato capito è stato compreso e guardate per quanto io penso a quello che è successo in passato faccio notare sommessamente che in tutte le grandi vicende penso all'84 penso al 93 penso al 2009 la riforma della contrattazione chi all'inizio sbraitava facendo scioperi facendo addirittura un referendum nazionale dicendo che era una svente di lavoratori poi ha firmato quegli accordi tre anni quattro anni dopo parlo della CGL questo ve lo dico perché ci dà anche un po' di fiducia su quello che succede ma a parte questo mi viene in mente qualcosa che è ancora diverso da queste cose qua mi viene in mente un periodo che potremmo descrivere così molto simile per chi legge la Bibbia a quel libro della Bibbia che racconta il fatto che gli ebrei lasciano l'Egitto e si incamminano di fronte hanno un mare e un deserto non sanno quanto tempo cammineranno non lo sapevano che sarebbe durato quarant'anni quel viaggio quarant'anni non sapevano che avrebbero trovato come dice i serpenti gli scorpioni non sapevano neanche che strada facendo avrebbero dubitato della loro fede e avrebbero adorato i vitelli d'oro invece che le tavole della legge perché erano molto religiosi molto convinti non lo sapevano eppure hanno fatto quel viaggio perché perché sapevano dove volevano arrivare e quello era quello che li aiutava li ha aiutati ad arrivare noi guardate siamo in una situazione che è molto simile ovviamente la storia è diversa eccetera però noi dobbiamo fare una grande una grande traversata di un periodo che sarà lungo inutile che vi dica che i scorpioni sono tanti i serpenti pure di più perché lo sappiamo già li abbiamo visti ogni giorno inutile che vi dica che sentiremo sirene e vitelli d'oro che ci distrarranno verso altre cose noi dobbiamo sapere esattamente come quel popolo cosa vogliamo portare di là di questa traversata cosa perché la facciamo perché se non ce ne stiamo chiusi nel nostro individualismo a dire speriamo che passi la bufera perché ci mettiamo insieme nel sindacato per fare insieme questa traversata perché esattamente come dicevamo prima all'inizio noi abbiamo avuto dai nostri padri due grandi cose due grandi perle il lavoro come un diritto per tutti e le tutele sociali lo stato sociale come un'occasione di eguaglianza di eguaglianza sociale di giustizia sociale questi due patrimoni che poi dobbiamo saper coniugare nei modi possibili nei modi essenziali nulla sarà come prima come l'abbiamo vissuto ma questo deve restare come vincolo noi dobbiamo attraversare questo deserto cercare di non farci pungere dai serpenti evitare gli scorpioni che sono ancora più insidiosi perché arrivano no di nascosto non adorare vitelli d'oro e portare di là ai nostri figli questi due grandi patrimoni il lavoro e le tutele sociali e questo è il movimento di ricomposizione sociale di ricomposizione anche tra il popolo e la politica e le istituzioni che noi dobbiamo con grande forza riuscire a costruire vi ringrazio grazie